La storia ci insegna che gli imperi si convittono le armi ma si tengono col prestigio e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza ranziale che stabilisca non tanto delle differenze ma delle superiorità nettissime. Il giornale d'Italia il 14 luglio 1938 pubblicava il manifesto della razza. Questo manifesto sanciva la superiorità della razza italica rispetto a quella ebrea, segnando uno dei periodi più bui dell'umanità. La rivoluzione deve ormai incidere sul costume degli italiani, che devono imparare ad essere meno simpatici, per diventare più duri, implacabili e odiosi, cioè padroni. Gli ebrei, prima della promulgazione delle leggi razziali, erano integrati nella popolazione italiana. Non erano considerati diversi. Gli italiani scoprirono il problema ebraico quando il fascismo decise di porlo come tale. L'11 novembre 1938, sulla prima pagina del Corriere La Stampa, furono pubblicate le leggi razziali fasciste, dopo essere state approvate in soli 60 minuti di tempo. La quotidianità degli ebrei fu completamente sconvolta, furono costretti ad abbandonare le proprie abitudini di vita. Gli fu vietato loro di prestare servizio militare, di dirigere grandi aziende, di essere proprietari terrieri o avere le dipendenze domestici di razza ariana. Anche la scuola subì dei cambiamenti, studenti e insegnanti ne furono completamente esclusi. Inoltre, i dipendenti statali furono costretti ad abbandonare le loro cariche, tra questi Mario Finzi. Mario Finzi nacque a Bologna nel 1913 da una famiglia piccola borghese ebrea. Il padre insegnava lettere al liceo Minghetti. Mario è un ragazzo prodigio, tant'è che all'età di 20 anni si laureò in giurisprudenza all'Università di Bologna, dopo aver conseguito il diploma musicale a soli 17 anni. Sin da giovane Finzi aveva coltivato la passione per il pianoforte, nonostante il padre volesse che il figlio diventasse magistrato. Nel 1933 raggiunge l'apice della sua carriera concertistica con un concerto a Brescia, in cui suonò Armonie della Sera di Lis e Studi e Redesis Minori di Scriabin. Dopo il concerto a Brescia venne invitato a Milano per un importante concerto che l'avrebbe consacrato nel mondo della musica. Tuttavia, dopo una forte opposizione del padre, egli declinò l'invito, mettendo fine alla sua carriera concertistica. La vita di Mario Finzi, come quella di tanti altri ebrei, fu completamente sconvolta dopo la promulgazione delle leggi razziali, che posero fine alla sua professione di uditore giudiziario e determinarono la fine di molte altre carriere. Dopo che la scuola cacciò studenti insegnanti, la comunità ebraica ha deciso di organizzare un sistema scolastico efficiente per garantire la continuità degli studi ai ragazzi. Mario Finzi comincerà ad insegnare proprio in una di queste organizzazioni, la Scolina Bolognese, un palazzetto di ridotte dimensioni, con pochi banchi e tanti ragazzi, che gnari del destino che gli sarebbe aspettato, sorridevano, riempiendo quelle aule apparentemente vuote. Nel 1939 Mario Finzi ottene un visto per Parigi, dove ebbe l'occasione di continuare la sua carriera artistica e concertistica. Il 25 agosto dello stesso anno ritornò in Italia per rinnovare il visto, dove rimase definitivamente bloccato a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale e alla successiva chiusura delle frontiere. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. Mario Finzi in questo periodo ebbe un'importante maturazione e riflessione, che lo portò ad impegnare animo e corpo nell'aiuto del prossimo. Il mezzo che gli permese di fare ciò fu la della ASEM, la Delegazione per l'Assistenza agli Ebrei Immigrati. Finzi si distinse particolarmente per l'azione eroica svolta a Nonantola. Nei pressi di Modena. Diede loro una casa e anche un supporto morale, facendo ciò che più gli piaceva, suonare il pianoforte. Egli, con le sue melodie, riuscì a distrarli per pochi attimi dal rumore della guerra. Questi ragazzi e noi che li abbiamo aiutati non siamo soli, non siamo più isolati. Ho parlato con i contadini che li hanno visti arrivare qui a Nonantola, che ci hanno aiutati senza risorse, con una generosità e uno spirito di solidarietà che non ci saremmo mai aspettati. Essi hanno capito per istinto che la tragedia del nostro popolo e il destino di questi 70 ragazzi, orfani e profughi, è anche la loro tragedia e il loro destino. L'8 settembre 1943, dopo l'occupazione nazista, la de la Zem fu costretta a diminuire il suo operato e passare alla clandestinità. Il 31 marzo, Mario fu catturato e arrestato dai fascisti a seguito di una delazione, inizialmente trattenuto nel carcere di San Giovanni in Monte a Bologna e poi trasferito al campo di concentramento di fossoli. E infine, insieme ad altre migliaia di ebrei, fu deportato ad Auschwitz. Mio Dio, sono nato per contemplarti, per vivere di te, per agire per te. Solo la coscienza di servirti fedelmente può darmi la pace. Tremo al pensiero di non essere più degno di te. Questo è il vero timor di Dio. Mio Dio, sono cresciuto e ho dovuto sopportare di vederti misconosciuto, non solo con il pensiero, ma anche con l'azione e la parola. E dentro di me mi sono proposto allora di compensare le offese, di essere il tuo cavaliere senza macchie e senza paura. Ho sbagliato, ho peccato contro di te. Non ho dato a te tutte le mie forze, mi sono lasciato distrarre. Ti ho, anch'io, offeso. Mario Finzi, arrivato ad Auschwitz, fu uno dei pochi ad essere selezionato per i lavori, mentre gli altri furono mandati a morire nelle camera a gas. In base alla testimonianza di Elikin Cordoval, Mario era ancora vivo all'arrivo delle truppe sovietiche il 27 gennaio 1945. Ammalato gravemente, venne ricoverato in ospedale, dove da lì a poco morì. In memoria di Mario Finzi è stata collocata una pietra di inciampa a Bologna, in via del Cestello 4. Oggi, 27 gennaio, giornata della memoria, è importante ricordare. Perché se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono essere nuovamente sedotte ed oscurate, anche le nostre. Perché ciò che è accaduto. 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 Grazie.